La più grande truffa organizzata ai danni del Comune di Lecce, come definita dalla Procura, è stata dunque sventata. Anch'io, interviene oggi Carlo Salvemini, da cittadino e contribuente, sono contento per il risultato ottenuto. Fu lui, infatti, in tempi non sospetti, a denunciare da solo quella che definì la scandalosa operazione finanziaria nel lontano maggio del 2007. Quello che oggi viene celebrato come un successo, commenta, è più correttamente il ripristino della situazione esistente fino al 2006, con il Comune, che corrispondeva ai canoni di locazione per l'uso degli uffici giudiziari di via Brenta, poi rimborsati dal Ministero, e che fu sciaguratamente stravolta dalla decisione assunta dall'amministrazione Poli di sottoscrivere un contratto di leasing immobiliare finalizzato all'acquisto, perdendo da una parte la possibilità di rimborso, dall'altra appesantendo le rate semestrali a carico di un bilancio già stressato, un attentato finanziario, come ebbe a definirlo. Oggi, insomma, come annunciato dallo stesso sindaco Paolo Perone, il pericolo è scampato, ma lo si deve al lavoro svolto dalla Procura di Lecce della Guardia di Finanza, sottolinea l'ex consigliere d'opposizione, che hanno portato avanti un'indagine penale complicata e non ancora conclusa, il cui avvio non si deve alla denuncia del sindaco appena insediato, né del vice sindaco precedente. L'uno e l'altro, nell'unica persona di Paolo Perone, preferirono voltarsi dall'altra parte quando l'allarme dell'incendio venne per tempo lanciato, salvo poi doversi accorgersi che le fiamme stavano bruciando le casse comunali. Per essere più credibile, Salvemini invita insomma il sindaco a scusarsi con la città per quello che poteva per tempo vedere ed evitare e che colpevolmente ignorò. Il pericolo finanziario è scongiurato, conclude Carlo Salvemini, ma lo scandalo politico rimane.